In questo video voglio raccontarvi perché è importante studiare, voglio dimostrarvi che la conoscenza dei linguaggi ci rende liberi. E per portarvi avanti questo discorso molto importante, devo fare un passo indietro nel tempo e nella storia e portarvi lontano anche a livello geografico. Partire quindi da quelle che vengono definite le culture della mezzaluna fertile. Allora avete qui davanti per accompagnarvi in questo viaggio nella lontananza geografica ma anche storica, lontanissima appunto, avete davanti questa cartina che ci mostra appunto quelli che erano gli insediamenti definiti appunto della mezzaluna fertile. Perché come vedete c'è questa sorta di forma a mezzaluna di quegli insediamenti che erano stati creati intorno ai fiumi del Tigri, i fiumi Tigri ed Eufrate. Ma si parlava quindi di una sorta di territori che avevano condizioni climatiche ed insediamento appunto favorevoli e intorno a queste zone si svilupperanno le prime importanti civiltà ma soprattutto le prime importanti città. Tenete presente che queste antiche zone sarebbero coinciderebbero con paesi come l'Iraq di oggi. Noi parliamo di civiltà anche del vicino oriente. Ora forse non vi siete mai chiesti, l'avete già studiato tante volte, ma non vi siete mai chiesti perché noi parliamo di vicino oriente. Vicino a chi? A cosa? Ecco questo è curioso perché evidentemente la vicinanza è all'Europa. E' evidentemente uno studio che parte dalla cultura occidentale e che analizza ciò che è accaduto nel vicino oriente, appunto vicino rispetto all'Europa, perché appunto molti di queste città, di questi luoghi erano luoghi protagonisti dei racconti della Sacra Bibbia e quindi erano assolutamente parte dell'origine della cultura occidentale. Ma torniamo al nostro viaggio. Vi dicevo, allora, nascono le prime importanti città. In realtà erano vere e proprie città-stato governate da re. Ora, ragioniamo, cosa rende autonomo, indipendente uno stato? Innanzitutto una possibilità di una gestione libera e autonoma a livello politico e amministrativo. Se c'è un governo che può decidere come amministrare il regno, la città, ovviamente c'è una forma di governabilità e quindi di libertà e quindi il governo della politica. Poi c'era anche una libertà a livello giuridico. Venivano create delle leggi, c'erano dei magistrati che dovevano farle rispettare. C'è ovviamente una libertà di una città o città-stato o di un regno, se abbiamo la libertà rispetto agli altri, ovviamente l'indipendenza di tipo economico, ovviamente. E poi se c'è una sorta di potere, io vi parlo di libertà ma avrei potuto parlarvi di potere, ovviamente anche militare, l'esercito, è ovviamente un potere o una libertà di tipo religioso. Quindi una sorta di sistema strutturato anche di sacerdoti che rivestivano un ruolo molto importante. Quindi vi ho detto potere politico, giuridico, economico, militare e religioso. Tenete in mente questi poteri perché li rincontrerete in qualunque civiltà andrete a studiare da questo momento in poi. Ora, intorno a queste città così importanti che si formavano, queste città-stato, c'era un'entroterra agricolo appunto che era quello che garantiva l'autonomia, l'indipendenza di tipo economico. Perché appunto se c'era la possibilità di sfamare la popolazione, si poteva poi anche intrattenere con le popolazioni limitrofe un qualche tipo di scambio commerciale. Ma è anche vero che ci saranno tantissime lotte tra città-stato e regni vicini. Tanto che si parla anche di questa torre di Babele. Qui vi mostro un'opera bellissima realizzata da Peter Bruegel, il vecchio. Siamo alla seconda metà del Cinquecento, nell'area fiamminga, giusto per datarvi l'immagine. Ma in realtà la torre di Babele è una sorta di figura allegorica, mitologica, retorica mi sento di dire, che affonda in realtà le sue origini nel testo della Bibbia. Qui vi ho preso appunto uno stralcio appunto della Genesi 11, 9, in cui si parla di questa torre di Babele. Pensate, la Bibbia ci racconta che esisteva questo luogo mitico, in tutti parlavano la stessa lingua, or tutta la terra parlava la stessa lingua. Vedete che vi sto già introducendo l'importanza del linguaggio. Vi dicevo, in questo video vi dimostrerò l'importanza del linguaggio, la conoscenza, la pratica, la decodifica, la comprensione del linguaggio. Ora, partiamo dalla torre di Babele. Or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avvenne che mentre si spostavano verso sud, essi trovarono una pianura nel paese di Shinar e vi si stabilirono. E si dissero l'un l'altro, or su, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco. Parleremo spesso noi di mattoni, parleremo della costruzione degli edifici, ma verrà più avanti. Comunque vedete che, se tutti parlano la stessa lingua, è possibile anche costruire, progettare. E usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta. E dissero, or su, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. E facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse, ecco, essi sono un solo popolo e tutti hanno la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Or su, scendiamola giù e confondiamola la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città, quella unica. Perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Ecco, è come se da questa torre di Babele che si stava costruendo, appunto, con questa dispersione dei popoli nei diversi luoghi della terra, questa impossibilità di capire la stessa lingua, ecco, fosse nata la diversità culturale che avrebbe in realtà complicato la vita, ma arricchito profondamente anche la vita, la cultura dei popoli. Torniamo quindi alla nostra storia. Ora dovremmo parlare di, lo farò in velocità della luce a grandissime linee, di queste grandissime culture che sono nate intorno a quella mezzaluna fertile. A partire dai sumeri che avevano popolato la zona della Mesopotamia del sud, vi sto dando, vi do delle indicazioni, delle datazioni di massima. La cultura sumerica si fa risalire al 4.000-3.500 avanti Cristo. Pensate che i sumeri hanno rivestito una importanza enorme nella nostra storia, nella nostra cultura, perché hanno creato la geometria, che era una scienza che permetteva di misurare i campi, quindi è legata all'agricoltura, però grazie a questa scienza potremo poi, no, via via studiare le forme, e misurare le forme. Daranno vita all'astronomia e con l'astronomia daranno vita alla prima forma, per quanto arcaica se vogliamo, ma di calendario che registrava il mese lunare di 29 o 30 giorni. Pensateci, il stesso sistema moderno che noi usiamo oggi, ovviamente modernizzato, ma ha la sua origine così lontana. E poi inventeranno anche l'idraulica, ovviamente per poter creare quei sistemi di irrigazione che permettevano appunto la coltivazione dei campi e di conseguenza la vera e propria costruzione delle città che vivevano di quei sistemi agricoli. Ma l'impero sumerico verrà in seguito conquistato da una popolazione semita che darà vita all'impero accadico, siamo tra il 2350 e il 2150 avanti Cristo. E ancora, vado veramente a farvi scorrere tutta la storia molto velocemente, succederà poi all'impero accadico l'impero babilonese, sviluppato tra il XVIII e il XVI secolo avanti Cristo, nella zona che oggi è quella a sud di Baghdad. Seguiranno poi, seguirà l'impero sempre semita degli Assiri, con la capitale Assur, sviluppata tra il 1100 avanti Cristo fino alla distruzione della città di Ninive, la più importante delle città, una tra le più importanti delle città appunto Assire, avvenuta nel 612 avanti Cristo e appunto dal 539 la conquista di tutta la zona da parte dei persiani. Vi ho fatto veramente un velocissimo riassunto della storia di questi popoli. Vedete che le date non coincidono perché tra la dominazione di un impero e l'altro ci saranno lotte ulteriori che vedranno poi la scomparsa delle conquiste attuate, quindi vi ho nominato semplicemente i momenti di massimo splendore delle diverse culture che si sono succedute. Fa storia a parte, noi ne parleremo a parte, e qui vedete appunto la storia dell'Egitto. Ora l'Egitto per noi sarà importantissimo, poi ve ne parlerò ripeto a parte, ma vi dico subito che sarà importantissimo perché è una storia che è infinita, lunga quasi 3000 anni, che ci ha proposto tantissime testimonianze e che ha proposto anche tantissima influenza per le culture del mar Mediterraneo su cui in realtà l'Egitto si affaccia. Pensate tra l'altro che in questo caso un altro fiume è stato così importante per la costruzione appunto di questa cultura. Si parla di cultura nilotica appunto perché la cultura dell'Egitto si è sviluppata intorno al fiume Nilo che è il fiume più lungo del mondo, misura 6.671 chilometri. Ma in questi 3000 anni di storia si sono succedute ben 30 dinastie a partire dal 2850 avanti Cristo, momento in cui l'Alto Egitto, che in realtà è quello che vediamo a sud ma è una parte montuosa da cui prende nome appunto di Alto Egitto e il Basso Egitto che è quello che vediamo invece da una parte a nord del paese, avevano dato origine a uno stato unitario, in questo caso retto non semplicemente da un re ma da un vero e proprio faraone. Faraone, secondo la lingua antica, significava proprio una divinità, figlia del dio Horus, il dio Falco padrone degli spazi celesti, quindi davvero qualcosa di molto diverso come cultura, molto affascinante. Voi tutti sapete tra l'altro che la cultura egiziana era strutturata secondo delle caste con a capo di tutti ovviamente il faraone che aveva dei veri e propri poteri divini. Sotto di lui c'era la casta dei sacerdoti che si occupavano di veri e propri funzionari e poi dei nobili che erano appunto anche loro funzionari e a capo dell'esercito sempre tenendo conto appunto di quei poteri che vi nominavo prima. Al di sotto c'era il popolo libero, molto spesso fatto di artigiani, soldati, insomma liberi cittadini e poi c'erano invece al di sotto ancora gli schiavi che non avevano alcun diritto che potevano essere venduti come veri e propri oggetti, come merci. Ecco, parleremo di Egitto, vi dico soltanto che possiamo dare una suddivisione in tre diverse fasi. Il regno antico dal 2657 al 2166, il regno medio dal 2020 al 1793 sempre avanti Cristo e il regno nuovo dal 1550 al 1069 avanti Cristo. Anche in questo caso con dei buchi in mezzo perché ovviamente con guerre e conquiste da parte dei popoli limitrofi che hanno tolto per un po' seppur brevemente appunto il potere a queste dinastie. La cultura egiziana andrà avanti fino al 30 avanti Cristo quando verrà annessa in sostanza all'impero romano, diventerà una provincia romana. Vi ho fatto una lunghissima premessa storica per parlarvi in realtà di quello del tema importante di questo video, cioè la nascita della scrittura. Dobbiamo far risalire la rivoluzione della nascita della scrittura alla fine del quarto millennio. In realtà parliamo ancora una volta di cultura mesopotamica perché appunto è da lì che nasce la prima forma di scrittura. Ma vi sto mostrando immagini che in realtà non sono mesopotamiche. Ma perché? Voglio fare un discorso più complesso. Ora, che cos'è la scrittura? È una forma codificata in cui vengono ideati dei codici simbolici che servono per comunicare, servivano per trattenere e classificare dei dati, delle informazioni, delle memorie e ovviamente questo serviva ad accrescere il patrimonio culturale al di là della semplice trasmissione orale da padre in figlio o da maestro ad allievo. Immaginate la incredibile crescita che ha permesso l'invenzione della scrittura a livello culturale perché ovviamente questo permetteva di immagazzinare dei dati che rimanevano consolidati e non andavano persi con la morte delle persone che questi dati li conservavano. Ovviamente questo permetterà anche, la scrittura permetterà un grande sviluppo della registrazione dei commerci ma anche un grande sviluppo della legislazione perché appunto ci sono dei codici appunto che raccontano appunto delle leggi. Esistevano due tipi di scrittura, o meglio esisteva la scrittura cosiddetta, verrà inventata la scrittura cosiddetta ideografica. In cosa consiste? Come ci dice la parola, l'idea viene realizzata secondo dei simboli grafici, degli elementi visivi. C'erano dei simboli relativi a degli oggetti o delle azioni da compiere e in particolare se i simboli erano di tipo figurativo, cioè simboli che rappresentavano oggetti riconoscibili dalla realtà come nel caso di questa incisione che voi vedete in questo momento, si parla appunto, se i simboli sono figurativi, cioè rappresentano qualcosa di riconoscibile dalla realtà, parliamo di geroglifici. Secondo la lingua greca, geroglifico verrebbe da hieros glifein, cioè incisione sacra. Voi conoscete appunto i geroglifici, ve ne sto mostrando qualcuno, ovviamente egiziani, anche se appunto non è la prima forma di scrittura più antica. Ma i geroglifici egiziani come funzionavano? In particolare appunto impiegavano questi simboli figurativi. Abbiamo esempi di geroglifici dal terzo millennio avanti Cristo e venivano spesso realizzati su fogli di papiro. Voi sapete che il papiro è una pianta che ancora oggi è molto diffusa in Egitto, è una pianta acquatica in sostanza e impiegando le fibre di questa pianta, quasi intrecciandole per creare una tramatura con fogli sovrapposti, si otteneva questa superficie resistente ed elastica, poteva anche essere arrotolata, su cui si scriveva appunto con dei pennini che erano tratti da delle piume di uccello e degli inchiossi di tipo vegetale, appunto come vedete anche molto colorati, e la scrittura poteva avvenire da destra verso sinistra oppure il contrario e dall'alto verso il basso o viceversa a seconda del supporto su cui si andava a scrivere. Ma a questo tipo di scrittura in realtà se ne fa risalire una in precedenza, cioè si confronta questo tipo di scrittura con simboli figurativi, cioè geroglifici, a un altro tipo di scrittura più antica che è quella cuneiforme, realizzata con dei simboli geometrici astratti come quelli che state vedendo in questo momento, che noi richiamiamo cuneiforme, in questo caso l'origine della parola è latina, da forma di cuneo, cioè a forma di questi scavi incisi un po' curvi. Ecco, in particolare sono il cuneiforme, ecco la lingua più antica, la scrittura più antica appunto che risale ai sumeri del IV millennio a.C. Dai sumeri poi verrà impiegata dagli assiri, i babilonesi, i persiani, e in particolare i sumeri inizieranno a utilizzare questo tipo di scrittura, ma voi vedete che il supporto non era al papiro, erano delle tavolette di argilla, l'argilla era un materiale, molto comune, molto diffuso, lo troveremo molto spesso nei nostri percorsi, queste tavolette di argilla, è una roccia sedimentaria, di aspetto terroso, impermeabile, dalla consistenza morbida che se veniva bagnata poteva essere proprio lavorata, e si incideva la tavoletta di argilla, quando l'argilla era ancora fresca, bagnata, con uno stilo, cioè uno strumento appuntito in realtà che derivava da un giunco o da una canna, quindi di nuovo da qualcosa di vegetale. Le prime tavolette di argilla sumere in realtà sono curiose perché non erano altro che registrazione di movimenti e stoccaggi di merci, molto spesso legati ai templi, potevano essere appunto merci quale grano, oppure pecore, o in generale il bestiame, e si fanno risalire alla città appunto di Sumera di Uruk. è molto interessante, se io non capisco nulla di cuneiforme, vedete che è un linguaggio alquanto ardito, ma credo di avere capito che questa sorta di elemento grafico significhi birra, perché in realtà i sumeri bevevano tantissima birra, questa è una curiosità che vi do, vedete che conoscere la scrittura vi dà anche accesso a informazioni davvero interessanti, curiose, e appunto tre volte ripetuto questa birra evidentemente aveva a che fare con, che ne so, i commerci, lo stoccaggio nei magazzini, o l'entrata e l'uscita appunto di questo materiale, di questa merce così importante per i sumeri. Ora, le tavolette d'argilla avevano il vantaggio di essere nifughe, cioè di non bruciare così come i papiri, ma avevano l'incredibile difetto di essere molto ingombranti e anche molto fragili, perché ovviamente se cadevano rischiavano di rompersi. Guardate che meraviglia che sono queste tavolette incise con queste storie raccontate, ma c'è qualcosa di ancora più affascinante, perché dovete sapere che dalle prime registrazioni di stoccaggi di merci, di questi commerci o dalle leggi che servivano a regolamentare gli stati, in realtà sono arrivate fino a noi delle testimonianze ben più affascinanti, come quella raccontata su questa tavoletta del re Yuruk Gilgamesh. In realtà questo personaggio che era alla ricerca dell'immortalità, quindi la sua storia è narrativa. Quindi vedete che cominciamo a trovare delle testimonianze che dalla una semplice registrazione, come dire, commerciale, di scambio di merci, hanno esigenza di affrontare dei temi che sono più complessi, più affascinanti, che hanno a che fare con la storia, con la storia religiosa, o con temi più alti, o con l'esigenza che l'uomo ha sempre avuto di raccontare, la narrativa, raccontare storie. E per raccontare idee e temi e concetti astratti occorreva quindi fare un passo avanti, ma ci arriviamo. Faccio invece una piccola digressione, perché vi racconto che le prime tavolette cuneiformi sono state rinvenute intorno al 1850, quando, insomma, nel XVI secolo in generale, sono stati compiuti diversi scavi archeologici da gruppi di scavo, appunto, d'archeologi sia inglesi che francesi, che erano profondamente affascinati dall'ipotesi di andare a scoprire la reale esistenza delle città raccontate nella Bibbia. E quindi queste antiche città verranno in realtà ritrovate, almeno i resti di queste antiche città verranno ritrovate, e dal 1850, appunto, anche le prime tavolette cuneiformi. Tenete presente che oggi al British Museum di Londra si conservano qualcosa come 130.000 diverse tavolette, quindi un patrimonio importantissimo, appunto, della antica Biblioteca di Ninive, ma non solo, quindi davvero di queste antiche civiltà, davvero qualcosa di importantissimo. Ma questi scavi archeologici, avvenuti, appunto, vi dicevo, alla metà più o meno del XIX secolo, avevano portato anche alla profonda fascinazione per l'esotico, per queste culture che emergevano, tanto che nella prima esposizione universale del 1851 di Londra, realizzata all'interno del famoso Crystal Palace, qui vedete appunto una illustrazione, un'incisione che ci dimostra come era fatto il primo Crystal Palace, questo palazzo di cristallo realizzato da un costruttore di serre enorme, pensato come per poter esporre le più grandi scoperte della scienza, della tecnica o della cultura. Ecco, all'interno del Crystal Palace era stata dedicata proprio una parte alle ritrovamenti di Ninive, vedete la corte di Ninive, guardate che meraviglia appunto, questa è addirittura una fotografia, perché era già nata la fotografia, era già impiegata in quel momento, ma è molto curioso, però vi racconto anche che la curiosità, la passione archeologica per queste culture così antiche continua ad essere estremamente affascinante. Ah, una cosa ancora che non vi ho detto, quando è stata codificata la lingua cuneifono e quando siamo stati in grado di capire cosa rappresentassero questi strani simboli grafici, sempre intorno al 1850 in quegli anni, ma in particolare nel 1857, quando al ritrovamento di una nuova tavoletta emersa da nuove campagne archeologiche, i simboli rappresentati su questa tavoletta sono stati assegnati allo studio di quattro diversi studiosi che ne hanno tratto pressoché la stessa identica traduzione. A questo punto, con il lavoro di quattro diverse teste, si è deciso che quello fosse davvero la possibilità che permetteva la codifica di questa lingua così misteriosa, anche se permangono ancora molti misteri relativi a questa antica lingua scritta. In realtà vi dicevo però che la fascinazione per questa antica cultura continua ad esistere, pensate che nel 2007 all'asta è stata battuta una piccola scultura, questa guennell lioness, questa leonessa guennell, per 57,2 milioni di dollari, immaginate, proprio per farvi capire quanto ancora l'afficinazione per queste culture, i reperti, queste culture antiche sia così importante. Ma facciamo un passo in avanti e veniamo a capire perché è così importante per voi studiare e capire i linguaggi. Vi dicevo che per veicolare concetti astratti, parlare di cose come l'amore, parlare di qualcosa come il bene, il male, poter distinguere tra il bene e il mare, parlare della potenza, parlare della felicità o della morte. Molte di queste culture incentreranno moltissime testimonianze artistiche proprio dedicheranno moltissime testimonianze a parlare di morte. Ecco, occorreva andare oltre questi linguaggi ideografici e quindi gradualmente si comincerà ad assegnare una lettura fonetica, cioè un suono a quei simboli grafici che venivano tracciati, ad abbinare a ogni simbolo ideografico un suono. Intorno al secondo millennio, avanti Cristo, nascerà quindi la scrittura fonografica, sempre in Mesopotamia. A ogni lettera o a ogni sillaba verrà associato un suono. Immaginate la sequenza fonetica di singole lettere o di sillabe o di gruppi di sillabe darà vita a quelle che noi chiamiamo le parole. Ecco, saranno i fenici, secondo le testimonianze che vengono comunemente ritenute valide, a creare la prima forma di alfabeto, 22 simboli senza vocali, che appunto permettevano la codifica molto più semplice di questi elementi grafici che associati ad un suono permettevano il riconoscimento di parole associabili anche a concetti astratti. Ecco, da questo primo alfabeto praticato dai fenici e che verrà impiegato da paesi come Israele, il Libano, la Siria, tenete presente che non vi ho nominato tutti i paesi, ve li ho mostrati prima ma non ve li ho nominati, fanno parte di questa meravigliosa storia antica, paesi che oggi sono l'Iraq, l'Egitto, la Siria, la Giordania, Israele, il Libano, il Golfo Persico e l'antica Turchia. Quindi davvero luoghi di quella zona così remota per noi oggi ancora molto misteriosi perché è anche teatro di conflitti costanti, continui, drammatici, violenti, per cui noi abbiamo una profonda distanza oggi politica religiosa e culturale da quei luoghi proprio perché c'è questa distanza anche drammatica, no? Di guerra, è fatta ancora di guerra. Ma torniamo all'alfabeto fenicio dal quale sono derivati poi in seguito l'alfabeto ebraico, quello arabo, quello greco che inserirà la presenza delle vocali, l'alfabeto cirillico e l'alfabeto latino che è quello che noi impieghiamo. vi sto mostrando da un po' di secondi la stela di Nora, una stela, pensate, trovata in Sardegna, quindi di nuovo il nostro territorio entra in gioco, una stela fenicia codificata con un linguaggio appunto che è quello dell'alfabeto fenicio che si fa risalire verosimilmente al IX-VIII secolo avanti Cristo. Ora vengo a raccontarvi e finisco quindi il lungo video, vengo a raccontarvi perché è così importante imparare a scrivere. Allora, secondo la strutturazione in caste egizia di cui vi anticipavo prima l'esistenza, la figura dello scriba, cioè di coloro che erano in grado di leggere e di scrivere, era una figura che godeva di un enorme potere perché vedete qui una bellissima un bellissimo basso rilievo in cui vediamo appunto dei giovani che stanno studiando in queste scuole per diventare scriba appunto per poter imparare a scrivere. Sentite cosa ci si raccontava degli scriba. Fare lo scriba dicevano quelle testimonianze ti salva dalla fatica, ti protegge da qualsiasi lavoro, non era un lavoro, era considerato come qualcosa che evitava i lavori di fatica, ti evita di portare la zappa e il piccone, non devi portare il paniere sulla testa, ti dispensa dal maneggiare il remo. Gli scribi avevano molti privilegi e quindi si raccomandava ai giovani di imparare a scrivere ed eccoci al punto perché non c'è lavoro senza padrone eccetto quello di scriva, egli è il padrone di se stesso, chi padroneggia i linguaggi è padrone di se stesso. Se impari a scrivere avrai un lavoro migliore di qualunque altro, si scriva e le tue membra saranno lisce, le tue mani diventeranno morbide, tu potrai uscire vestito di bianco, sarai esaltato e i cortigiani ti saluteranno. Ora, concludo questo lungo video raccontandovi quindi, mostrandovi in realtà una meravigliosa testimonianza di uno scriva egitto, egizio dell'antico regno che si fa risalire circa al 2500 avanti Cristo, quindi qualcosa come 4500 anni fa, ancora in ottime condizioni e addirittura voi vedete di pietra calcarea colorata, perché le testimonianze antiche molto spesso erano dipinte. Vedete che lo scriva è rappresentato in versione frontale, è una scultura a tutto tondo che noi vediamo pensato per una vista frontale, che sta scrivendo a un foglio di papiro arrotolato davanti a sé e vedete che in mano qui evidentemente aveva uno di questi pennini con cui evidentemente stava scrivendo. In realtà in questa foto non si vede ma i suoi occhi sono meravigliosi perché sono realizzati con degli inserti di pietre diversi, di cristallo ad esempio che danno veramente l'effetto di vividezza agli occhi stessi. Ma pensate che in questo momento soltanto i faraoni venivano rappresentati o quasi soltanto i faraoni venivano rappresentati a testimoniarvi che davvero chi sapeva scrivere godeva di un potere quasi paragonabile non paragonabile ma insomma assolutamente enorme quasi paragonabile stavo dicendo a quello dei faraoni non è vero ma insomma capite cosa voglio dire. Ora voglio farvi capire l'ultima cosa noi come facciamo a capire quello che stiamo guardando? L'arte è un linguaggio è un po' come se fosse fatto di queste strane forme sia figurative che astratte sia geroglifiche che cuneiformi e noi dobbiamo imparare a codificare i linguaggi pensate non sareste mai stati in grado di raccontare che cosa narravano le tavolette cuneiformi o i geroglifici che vi ho mostrato un attimo fa non siamo in grado perché non abbiamo studiato quel linguaggio e non ci permetteremmo mai di provare a inventarci una qualche forma di traduzione sulla base di ipotesi campate per aria vi sto dicendo che anche l'arte è un linguaggio e che quindi è necessario studiarlo per poterlo conoscere capirlo interpretare ecco che quindi vi sto lanciando questa sfida l'arte è il nostro linguaggio su cui noi lavoreremo per poter appunto capirne di più e ovviamente associarlo alla cultura di cui è parte perché ovviamente capiamo la cultura sumera soltanto andando a tradurre le tavolette cuneiformi capiamo la cultura egistia andando a tradurne i geroglifici ecco capiamo la cultura del mondo dell'arte soltanto andando a codificare il linguaggio di cui è fatto e contestualizzandola nel momento storico in cui ogni opera è stata creata di cui è stata creata